Ballando, Sabrina Salerno e la confidenza a Samuel Peron, non sono soddisfatta Ballando con le stelle, Sabrina Salerno sorprende Samuel Peron, voglio di più Ballando con le stelle ha ufficialmente riaperto i battenti, e lo show di Millie Carlucci ha sin dai primi istanti regalato grosse emozioni e colpi di scena Sabrina Salerno, classificata se quinta con 38 punti insieme al suo compagno e insegnate Samuel Peron Nelle storie Instagram si è mostrata a più riprese intenta ad allenarsi Sabrina ha anche fatto una confessione a Samuel Peron, non nascondendo di voler impegnarsi di più per ottenere risultati più importanti Samuel, non mi basta, voglio di più perché non sono soddisfatta, ha affermato Sabrina senza mezzi termini su Instagram, e il suo coach l'ha incitata Samuel Peron replica Sabrina Salerno dopo ballando con le stelle, le sue parole Sabrina Salerno, sin da prima che cominciasse ballando con le stelle Ha sempre mostrato i suoi allenamenti anche piuttosto intensi insieme a Samuel Peron, suo coach e partner in gara Dopo le storie di Sabrina in cui ha affermato di volere di più, Samuel Peron, che era presente come spesso accade La spronata non accontentarsi a impegnarsi sempre al massimo Tra Samuel e Sabrina c'è ormai un'ottima intesa ed una grande amicizia che Sicuramente sarà fondamentale nei punti cruciali della competizione a ballando Ballando con le stelle, Sabrina Salerno e Samuel Peron Quinti, il riassunto della prima puntata La prima puntata di Ballando con le stelle si è aperta con il botto Infatti sono state moltissime le emozioni che lo show di Millie Carlucci e i concorrenti hanno regalato A dominare la classifica, attualmente, è il duo Arisa-Vito Coppola che con ben 85 punti ha conquistato tutti A partire da Caroline Smith che è stata interrotta in studio A seguire ci sono stati Morgan, che ha ricevuto molti complimenti da Selvaggia Lucarelli, e Mietta Sabrina Salerno e Samuel Peron, con 38 punti, si sono piazzati i quinti ma promettono spettacolo in ogni caso